Ben trovati quotidianamente, prendiamo atto di vivere in un paese che non è normale per situazioni discutibili a livello nazionale ma che giungono anche nella nostra regione e nel nostro Salento. Partiamo dai casi italiani. Quando è possibile creare un'infrastruttura importante, mobile o immobile per la crescita dei territori? Quando è garantita la moralità e non il furto di denaro pubblico? E quando questo è garantito secondo la politica di questi ultimi anni, di questa ultima parte di questa seconda Repubblica? Quando viene gestito tutto non dai politici, cioè la politica si scredita perché dice non possiamo far gestire dai nostri colleghi, dobbiamo affidarci a un commissario. Quanto di immorale è accaduto alla Expo o per la Expo di Milano è stato risolto dall'intervento di un commissario. Come si fa a garantire in questo paese la liceità delle azioni? Grazie all'autorità anticorruzione, al dottor Cantone, che politico non è. Per cui l'anomalia di questo paese è che c'è una politica che ha paura di affrontare per la propria immoralità. E poi c'è, per venire all'ultimo caso, quello romano, la politica che non avendo il coraggio di affrontare crescite del e per il territorio, dice non facciamo nulla, stiamo a casa. È il caso del Raggi, che però il sindaco di Roma continua la sua posizione di no e conferma e quindi fa saltare quasi definitivamente la possibilità di celebrare le Olimpiadi in Italia e nella capitale di questo paese per due motivazioni. La prima perché era una promessa elettorale, al di là che parlò di referendum per far decidere ai romani stessi, ma oggi dimentica il referendum e dice assolutamente no al CONI e lo dice probabilmente per recuperare quella credibilità che si era un po' affievolita grazie al potevo non sapere chi sarebbe stato o chi era il mio assessore nella nuova giunta nominata. Dall'altro la paura di non riuscire a garantire una serie di interventi e di spesa di milioni e miliardi di euro, non riuscire a garantire la moralità. Ma è possibile tutto questo? O che ci possa essere una parte politica che per impedire l'immoralità deve per forza far nominare i commissari e ci può essere anche un'altra parte politica che per paura blocca lo sviluppo di una capitale italiana? Ma poi nel paradosso, il paese non normale, c'è il mezzogiorno, il quale è lasciato, il quale non subisce né la eventuale garanzia di un commissario, perché il governo non comprende il motivo per cui non nomini un commissario per la 275, ma lasci in mano a chi sino ad ora ha sbagliato la gestione per cui è da vent'anni che noi aspettiamo una strada, oppure non si fa assolutamente nulla, malgrado possa esserci un gruppo dirigente che voglia gestire. Ma il paese non normale, quindi il Salento lo ha conosciuto in queste ultime ore, con le provocazioni di Briatore, che se sbaglia a parlare dei ricchi, che se sbaglia a parlare del fatto che nel Salento si venga solo per fare il bagno nelle belle nostre acque, ha ragione quando dice, è sconvolgente, dopo i 20 anni e passa della 275, che da 9 anni si attende un nuovo porto, al di là se in questo nuovo porto di Otronto debbano attraccare mega yacht o normali imbarcazioni. E questa è l'altra anomalia, che deve arrivare qualcuno, che da qualche altra parte viene, che provoca e dice i ritardi. Perché? Perché se da una parte c'è un gruppo dirigente a Roma ipotizzabile o identificabile in queste ultime ore col sindaco del Movimento 5 Stelle che non ha il coraggio di affrontare e garantire la legalità per i lavori per Roma Olimpiadi, dall'altra ci stanno gruppi dirigenti che non hanno mai fatto delle vere battaglie per avere la 275, per avere la regionale 8, per avere il porto di Otranto o per avere la piccola darsena di San Cataldo. Questo è il paese che viviamo. A domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.